pillola 5 montare i sanitari e il mobile bagno con i giusti consigli chiunque può rinnovare la propria casa senza spendere una fortuna i nostri specialisti stanno arrivando a casa di fabio sei comodo ho preferito aspettarti per evitare conseguenze imbarazzanti stupirai di quanto è semplice iniziamo a stendere bene il telo ora assembliamo a coprivata controlliamo che gli attacchi siano in asse ad occhio e croce dai magari prendiamo due misure evitiamo le conseguenze imbarazzanti buona idea ci siamo il vaso viene fissato a terra con le squadrette come da scheda tecnica segna la posizione siamo i fori non iniziare subito con la punta della misura del tassello aiutati prima con un foro d'invito di misura più piccola informazione utile prima ancora usa l'intervolo per segnare il foro inserisci i tasselli e fissa il squadretto a terra questo è il canotto tagliato a misura e per lubrificarlo ti basta del sapone liquido finisci il vaso verso il muro e incastra i canotti attento le guarnizioni apri gradualmente lo scarico e fai il primo controllo che non ci siano perdite se è tutto a posto apri completamente lo scarico e riverifica viti e copriviti e abbiamo finito io inizio ad assemblarlo e questa mi sembra proprio un'ottima idea inserisco la piletta e adesso passiamo al miscelatore adesso il sifone e abbiamo tutto prima di montarlo inseriamo le curvette sotto il lavabo si usiamo il teflon facciamo un bel 6-7 giri per creare una sorta di guarnizione collega i flessibili e il sifone poi apriamo l'acqua e verifichiamo che non ci siano perdite se non ci sono perdite aggiungiamo viti e copriviti ok ho già montato i rubinetti quindi siamo pronti per il lavabo perfetto montiamo il lavandino a 87 cm da terra la ceramica è alta 6,5 cm quindi facciamo i segni per la struttura a 80,5 cm se a bolla mettiamo le asole e lo fissiamo ok a bolla piletta sifone e miscelatori assemblati sul lavabo lo calziamo sopra il mobile molto bene e adesso vado ad avvitare qua sotto esattamente sulla vasca avviti il nuovo miscelatore si finito tutto manca la doccia quasi tutto vuoi vedere come procede il relooking del bagno? guarda la prossima pillola guarda la prossima pillola guarda la prossima guarda c'è guarda la prossima guarda in